o alberto finalmente è arrivato il giorno dopo l'ordalia elettorale mi sembra che più o meno sui temi e sui partiti più importanti non ci siano state grosse sorprese quelle più microscopiche sono la pessima performance della lega e la performance non brillante di enrico letta però se guardi al totale la destra ha preso 43 per cento sì sì ma era quello che veniva attribuito nei sondaggi e sondaggi oscillavano 42 43 45 46 insomma prima nella fortella bassa ha preso perché la lega è andata male sostanzialmente perché si avesse preso quello che si pensava il 10 11 per cento e forse italia avesse preso un po meno un punto in meno più o meno sarebbe stato in linea con la forchetta alta così diciamo la 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 botta che si è preso salvini ha tirato un po' giù il dato in tutta la coalizione ma secondo me quello che è più contento di tutti è ricoletta che se ne voleva tornare a parigi e quindi non ha aspettato troppo per annunciare che lascia la gabbia di matti e torna presumibilmente all'insegnamento non so se se farà il però è stata che che è stata proprio la frammentazione della sinistra perdere capito questa perdita no questo questo risultato mediocre è figlio di una serie di scelte tutte fatte pensando di essere il sale della terra e poi ritrovandosi con il culo per terra perché primo sbaglio è stato quello di assecondare la riforma costituzionale che ha diminuito il numero dei parlamentari che ha fatto che ha tagliato il numero dei parlamentari il pd aveva sempre votato contro poi per compiacere l'alleato nel governo ha invertito la rotta di 180 gradi e ha secondato quella enorme castroneria non contento il pd non ha cambiato quella legge elettorale voluta e votata dal pd infatti porta il nome di un deputato del pd quindi c'è proprio l'impronta digitale ben visibile perché credeva di poter utilizzare di poter utilizzare il la camicia di forza della necessità di equalizzarsi per risucchiarsi i voti del movimento 5 stelle e invece gli è andata proprio male perché il movimento 5 stelle tra l'altro si è ripreso un bel po dei voti sempre li ha dimezzati rispetto a cinque anni fa però insomma date le premesse non ha ottenuto un risultato disprezzabile considerando che c'era anche la scessione di di maio e soci e quindi ha proprio sbagliato dall'inizio la strategia in vista delle elezioni il pd li letta peraltro con una frangia interna sempre dedita al sabotaggio che è l'arte in cui eccellono i vari orlando provenzano boccia emiliano franceschini all'occasione eccetera eccetera questi qui hanno lavorato no per delegittimare la linea di letta per dire bisogna andare con i cinque stelle bisogna recuperare il rapporto la linea sostanzialmente zingaretti bettini che era stata già perdente è continuata a leggere come un fantasma sul pd di letta e poi e poi l'ultimo capolavoro è stato lo screzio vogliamo chiamare così con calenda ma non è tanto lo screzio con calenda le poste le 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 personalità e l'inaffidabilità di tizi o di carico il problema della del mancato accordo con calenda e quindi della possibilità di essere competitivi nei collegi non i nominali deriva dal fatto che il pd non si sa decidere tra una linea chiamiamola fabbleriana una linea di socialdemocrazia moderna e il richiamo della foresta massimalista vorrebbe tutte e due perché non essendo un partito maturo dove si fanno scelte consapevoli dove chi vince gestisce il partito e la minoranza magari critica ma sempre con uno spirito di realtà è un partito dove tutti sono contro tutti gli altri e quello che succede è che per accontentare queste pulsioni centrifughe il segretario chiunque esso sia si trova a dover perdere una marea di tempo in mediazioni in blandizie in lisciate di pelo eccetera eccetera e da tutto questo non ne viene fuori nulla di sano nulla di utile né al partito né al paese e quindi il pd aveva un unico modo per vincere le elezioni era quello di dire noi abbiamo sostenuto draghi perché crediamo in quello che ha fatto crediamo che la sua azione di governo sia stata se non vuoi usare i perboli non vuoi dire eccezionale non vuoi dire straordinaria è stata efficace è stata in linea con quanto ci chiedono i nostri partner europei è stata riconosciuta positivamente a livello planetario quindi noi vogliamo che quell'esperienza continui quindi avrebbero dovuto allearsi con calenda e magari anche con qualche di un altro che ci poteva stare tipo qualche centrista qualche di uno magari con una presenza discreta a livello locale e in quel modo presentare un'alternativa andarsi a infognare con fratoi anni e bonelli con di maio con di maio che ha è stato capace nemmeno di essere letto a casa sua è stato praticamente umiliato nelle urne ti dice che il pd non ha una classe dirigente in grado di fare i conti con la realtà è una classe dirigente molto avvezza a manovre di corridoio ehm a discussioni in politichese ehm a occupare fette di potere a mantenere un elettorato non dico clientelare ma sicuramente ehm a cui piace la greppia dello Stato e questi sono i risultati quando qualche d'uno promette una greppia più grossa come hanno fatti i 5 stelle tutto la pille elettorale evapora e quindi anche se se ne va letta non è che nel pd cambierà qualche cosa arriverà probabilmente bonaccini che è una persona a me sembra abbastanza seria che riuscirà a ricucire i rapporti o a cucirli i rapporti tra queste due anime ehm dando un colpo al cerchio conte ehm e un altro alla botte ehm più centrista e e andrà avanti così magari riuscirà a recuperare uno o due punti percentuali però la 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 sconfitta secondo me è stata molto molto bruciante soprattutto in quelle zone che erano le roccaforti rosse insomma se va a vedere i collegi uninominali eh ma ho visto che Modena hanno perso a Modena e hanno perso a ma hanno perso in Toscana cioè hanno perso Gianni ex presidente della Toscana che qualche minimo consenso doveva pur averlo nella sua regione ha perso Marcucci è uno che Marcucci era deputato del partito liberale eh negli anni 90 negli primi anni 90 quindi per dire ehm era un eh politico di lungo corso con una storia con consenso piuttosto solido e insomma Cottarelli pure non è che abbia fatto una gran bella figura ecco ehm Cottarelli ha perso da chi dalla Santa Anche cioè non dicono anche ma Cottarelli era Milano Cremone Cremona Cremona perché Cremona nell'uninominale sto parlando proprio da pazzo l'abbonino ha perso capito nel collegio dove eh se fino a ieri il PD candidava un chihuahua il chihuahua diventava onorevole eh quindi ecco basta parlare del PD perché se no sembra che vogliamo sparare sulla Croce Rossa anzi sull'ospedale bombardato dalla Croce Rossa e no l'altro diciamo così se vogliamo vedere qualche elemento positivo Calenda e Renzi hanno avuto una una discreta affermazione non so come la vedi tu sì non c'è male però sì non c'è male 7.7 mi sembra io non sono così drammaticamente drammaticamente negativo sul PD eh beh dimmi tu dimmi cioè come come la vedi no niente avrebbe dovuto durarsi in naso a fare l'accordo elettorale con i 5 stelle dopo la caduta di Draghi invece per principio giustamente anch'io però l'unica ragione per cui la destra ha vinto è perché è compatta e ci voleva una sinistra compatta lascia pure la storia con 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 Calenda e Calenda è un testo di cazzo e egomaniac capito che fa un accordo poi però almeno quei 5 stelle dovevano dovevano durarsi in naso a fare l'accordo elettorale ahimè secondo me non si dovevano mettere nelle condizioni di dover fare accordi con chi che sia cioè bisognava rifare la legge elettorale in senso proporzionale ed erano d'accordo tutti perché i 5 stelle non avevano interesse a fare eh a mantenere una legge maggioritaria eh Renzi tanto meno forse Italia non aveva interesse eh frattaglie varie rappresentate in Parlamento per ovvi motivi non avevano interesse a tenere questo Rosatellum quindi è stato il PD a scegliere di infilare eh la testa nella bocca del leone e poi a stupirsi se il leone ha chiuso le fauci ma sai a quel tempo non si pensava di fare l'accordo a quei 5 stelle non c'era calenda calenda c'era c'era anche Renzi sono sempre stati e però un conto è l'accordo ma se tu ti metti nella condizione di dover fare una coalizione può darsi che non sia un accordo che ne venga fuori un ricatto e così è stato cioè non è stato un ricatto brutale però è stato un richiedere l'oncia di carne politica letta non c'è stato ha fatto le sue valutazioni ma il problema è a monte una volta che tu ti poni nelle condizioni di essere debole poi non ti puoi lagnare se quella condizione la paghi è così tra l'altro l'etta è arrivato in sostituzione di Zingaretti proprio perché la linea Bettini chiamiamola così quella di del fronte comune con i 5 stelle era stata abbandonata no? quando è arrivato Draghi a Palazzo Chigi il piano di coalizione tra 5 stelle e PD è stato messo in frigo e letta era proprio la personificazione di questo cambio di passo ha avuto 18 mesi per cambiare la legge elettorale invece sono messi a fare il decreto non so che è la maggioranza perché la destra non c'è non ci stava dovevano votare le 5 stelle e il PD e Renzi forza Italia avrebbe votato per il proporzionale ma non di poi loro pensavano di fare l'alleanza con i 5 stelle per cui non c'era non c'era non c'era sai non era sta grande strategia elettorale dal mio punto di vista comunque insomma vai 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 scusami non volevo interromperti vedevo che stavi no era chiaro che la destra vinceva perché era compatta con una legge parzialmente uninominale quindi devi presentarti con un fronte compatto e tu rarti il naso ma certo bisogna dire calenda non c'è stato quindi alla fine è stata calenda che ci ha regalato la destra capito la destra ce l'ha regalata calenda sì ma magari lui ti dice la regalata cioè che è quello che dice una che magari l'ha regalata a letta perché non si è voluto non ha voluto sposare la linea Draghi l'agenda Draghi e quindi ha preferito imbarcare fra due anni Bonelli e Di Maio e quindi a quel punto sì ma a quel punto lì era persa comunque capito perché dovevano starci tutti ma comunque questa destra qui ce l'ha regalata calenda dai calenda letta ma invece adesso bando alle lamentazioni sul passato vediamo un po' il futuro ma sono nel nel voto popolare sono in minoranza malettissima perché hanno un 60% dei deputati e senatori con un 53% del voto questo è il sistema maggioritario purtroppo sì ma tutti gli altri sono contro capito non è che ci sia non è che ci siano frange che sono irrilevanti tutti gli altri sono contro sì è così però sai poi i numeri contano in Parlamento non contano nel Paese no le regole sono quelle per cui la destra ha vinto c'è poco da fare la legge elettorale è quella la destra ha vinto e poi ho sommato diciamo bene una cosa alla fine è quasi quasi che avere una sinistra con dentro i 5 stelle non è che sia una gran goduria ah no no ma questi 5 stelle proprio hanno fatto una campagna elettorale disgustosa cioè proprio a allisciare il pelo ai Lazzaroni Lazzaroni nel senso etimologico del termine cioè a quelli che non hanno voglia di far nulla che pretendono l'aiuto dello Stato che si sentono in diritto di di oziare a spese altrui di vivere alle spalle degli altri insomma è proprio il peggio del peggio del clientelismo di Lauro di Achille Lauro non il cantante Gava non voglio fare altri nomi perché insomma li conosciamo tutti e cioè veramente quelli che dovevano portare il nuovo contro la casta aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno si sono ridotti a fare la politica clientelare più biega più vergognosa più sfacciata e quantomeno c'era un minimo di pudore no? in questi rassi democristiani questi proprio invece Conte e quella la sua masnada non si sono fatti mica scrupolo di 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 esibire proprio la la l'afflato verso i parassiti io hai capito ti sarò onesto se devo fare un un io non è che possa essere così triste dal fatto che i 5 stelle sono fuori dal governo capito? ah certo se vogliamo vedere un aspetto positivo decisamente questo è uno da non sottovalutare la Meloni è prudente sul bilancio è atlantista ed è conto il reddito di cittadinanza appunto vediamo un po' che cosa poi anche anche sulle leggi sociali non è che abbiano in mente di fare uno sbanderno capito? ma allora andiamo per ordine perché secondo me è interessante questo questo punto che tu sollevi andiamo proprio item by item tema per tema cominciamo da un aspetto che in campagna elettorale è stato praticamente trascurato nonostante pochi giorni fa ci siano state le elezioni del CSN il tema praticamente non ha avuto granché di risonanza se non nelle pagine interne perché è stato oscurato dalla campagna elettorale però il tema giustizia è uno dei temi più importanti per l'Italia allora la sinistra è sempre stata molto contigua con magistratura democratica con il sistema che Palamara ha messo in luce ha scoperchiato ok Berlusconi ha provato a riformare la giustizia ma siccome aveva i suoi processi insomma aveva la coda di paglia per usare un eufemismo tutti i tentativi di riforma poi si sono infranti contro questo suo conflitto di interessi e per di più le leggi che faceva non erano per snellire la giustizia erano per renderla ancora più cervellotica e ingessata in modo da poter ottenere le prescrizioni o comunque bloccare i processi fare così adottare una strategia di contenimento del danno Berlusconi non ha nulla di questo cioè non ha questo bagaglio di processi di conflitti di interesse vediamo se finalmente ha il coraggio di affrontare la riforma della giustizia in Italia se scelta come diciamo uomo di punta in questo settore Carlo Nordio che è un magistrato quindi non può essere tacciato di intendenza col nemico è una persona seria è un magistrato stimato se venisse affidata a lui questa incombenza di riformare la giustizia io ne sarei contento insomma si risolverebbe si affronterebbe un problema che si trascina da 40 o 50 anni mi ricordo mio padre che era avvocato e già le disfunzioni della giustizia negli anni 60 erano palesi si sono soltanto acuite in questi decenni vediamo che cosa sono in grado di fare hanno tutto l'interesse politico e di potere per dare un bello scossone a questa alle incrustazioni del sistema giudiziario italiano secondo problema secondo aspetto che secondo me potrebbe essere interessante è l'immigrazione allora lì si allega che fratelli d'italia hanno delle posizioni molto dure allora le storie dei blocchi navali dei respingimenti in macera secondo me sono un po' delle butate se è corretto non ne parla più dei blocchi navali però c'è un problema immigrazione in italia che arrivano con i barconi vengono salvati poi spariscono non si sa non possono lavorare perché non sono rifugiati non sono non hanno le le carte in regola eccetera eccetera quindi questo sistema ha creato un guazzabuglio che la gente comune non tollera perché le conseguenze le vive ogni giorno nei quartieri degradati o semplicemente in quelli periferici o insomma laddove poi questa marea umana si si risperde e crea problemi vediamo un po' che sapranno fare sull'immigrazione adesso nessuno potrà dire che ecco la sinistra o l'unione europea vuole sabotare le giuste misure del governo italiano vediamo che cosa sono in grado di fare tra l'altro tra l'altro la legge che regola l'immigrazione in italia porta il nome di due persone bossi e fini l'uno precursore della meloni il secondo di salvini vediamo un po' che cosa sono in grado di fare e tra l'altro su questo tema penso che pure calenda e renzi tutto sommato potrebbero offrire una sponda se non una mano sulla politica estera Alberto lì c'è il secondo me il potenziale per frizioni piuttosto virulente l'uomo di punta di meloni in questo settore è Terzi di Sant'Agata che è persona stimata signore di grande qualità signore nel senso di gentiluomo ho avuto l'occasione di poterci parlare mi sembra diplomatico di lungo corso ministro con monti quindi ha tutte le carte in regola l'unica cosa è non sappiamo fin quanto Salvini e Berlusconi siano inclini ad ascoltare le sirene di Putin se uno deve stare alle ultime uscite sia di Berlusconi sia di Salvini c'è un grosso punto interrogativo a dire a voler essere ottimisti tu come la vedi qua riguardo a la posizione internazionale dell'Italia io credo che ci abbia dato sufficiente garanzie la meloni capito non c'è mai sull'atlantismo sull'atlantismo però sai c'è la parte europea cioè c'è la parte di rapporti con l'unione europea la banca centrale europea il PNR il PNRR eccetera eccetera queste sono le le questioni aperte tu come la vedi mi sembra che tu sia più possibilista nel senso di dire che alla fine non si discosterà troppo l'aziendiero già tracciato sull'atlantismo io ritengo che abbia dato garanzie sufficienti sul PNRR ha parlato di modifiche poi dopo si è si è si è corretta poi dopo è anche legittimo parlare di modifiche no alla luce delle nuove delle nuove dei nuovi fatti spostare più PNR sull'energia o magari sulla giustizia perché no ho capito io ho trovato legittimo il fatto che potessero dire di fare delle modifiche al PNRR invece di dire no non si tocca qua e là quindi quindi io sono abbastanza tranquillo sia sull'atlantismo sia sul discorso del PNRR ah beh sul PNRR c'è stato un dibattito tra Boeri e Perotti da un lato e Giavazzi dall'altro sul Repubblico ti dico a livello teorico tutti hanno ragione il problema è poi quando metti in opera sia le riforme sia quando apri i cantieri allora qui di tempo non ce n'è perché il governo Draghi lascia parecchie milestones e target al governo che si insedierà io non lo so se questo che se qualunque governo sia in grado entro dicembre di fare tutto quello che c'è da fare secondo me no però mi posso sbagliare posso essere troppo negativo eccetera io prima di pensare a modificare il PNRR che richiede dei mesi cioè ci vogliono due mesi bisogna proporlo aspettare due mesi il parere delle autorità europee poi vedere se sono d'accordo o meno quindi cioè non è una procedura istantanea non premi il bottone dici io adesso voglio fare così vi va bene o no rispondetemi entro 24 ore e se vogliamo proprio dirla tutta molte delle riforme messe in cantiere dal governo Draghi non sono vere riforme la prima e il primo esempio da citare è la riforma della giustizia che porta il nome della ministra Cartabia ne abbiamo parlato in queste nostre puntate non risolve proprio niente ma non lo dico solo io lo dicono anche persone come Renzi che sicuramente non sono ostili a Draghi quindi quello è un aspetto dove mi ricollego a quanto detto prima lì bisogna intervenire più con l'ascia che con il bisturi e e poi ci stanno le questioni aperte anche lì su cui la campagna elettorale è stata avara di dettagli però sono questioni importanti scuola università e ricerca quello è un terreno dove io non ho sentito grandi proclami grandi promesse o grandi grandi prese di posizione da parte di Meloni però c'è da fare sempre nell'ambito del PNRR la riforma di curriculum la carriera degli insegnanti eccetera eccetera là si vedrà se questo è un governo uso termini grossolani ma per capirci di tipo tacceriano o di tipo democristiano o un governo incline a incline ad accettare le richieste delle lobby sindacalizzate oppure un governo incline veramente a cambiare le cose tu che ti aspetteresti non mi aspetto che facciano di niente di molto diverso da quello che avevano fatto gli altri però devono fare qualcosa nel campo del PNRR cioè non possono lasciare tutto com'è c'è un impegno quindi qualcosa beh ci sono i programmi del PNRR che rimarranno sostanzialmente inalterati no ma poi devi implementare cioè per dire la carriera degli insegnanti oggi tu una volta che entri nella scuola più o meno sì ci sono degli scatti diventi di ruolo acquisti punteggio magari diventi presido viceprese però in generale è una carriera in cui lo stipendio dipende dall'anzianità e la gerarchia è piatta questo deve cambiare se la gerarchia non è più piatta bisogna introdurre dei metodi di valutazione per determinare chi sale di grado e chi no cioè se c'è l'insegnante senior o che ne so distinguished teacher distinguished professor non so se mi spiego quella è una rivoluzione culturale se poi devi valutare anche i risultati nelle scuole cioè attraverso i vari test PISA invalsi e quant'altro capisci che lì vai a toccare interessi molto consolidati molto ben difesi dal sindacato dalla burocrazia ministeriale dalla politica per decenni lì ecco non ti saprei dire onestamente che cosa può succedere c'è chi dice la destra ha questo complesso di inferiorità ma diciamo questa lamentazione perché nella cultura nella ricerca nell'università c'è stata un'egemonia di sinistra quindi la pulsione la tendenza è quella di tra virgolette regolare i conti o quantomeno ribilanciare i rapporti di potere pure quello è un elemento interessante l'ultima cosa è sulle questioni economiche allora se dal punto di vista macroeconomico e fiscale dobbiamo credere alle prese di posizione di Meloni negli ultimi tempi insomma in linea grosso modo con gli impegni presi a Bruxelles con la linea Draghi dal punto di vista microeconomico ci sono una serie di punti interrogativi perché tendenzialmente la destra Fratelli d'Italia e Lega in particolare ma anche Forza Italia ha dimostrato di essere protezionista cioè ha sempre battuto sulla gran cassa dell'interesse nazionale dei campioni nazionali della difesa dallo straniero e quindi ITA TIM altri dossier aperti sul tavolo della politica secondo me quella storia degli interessi nazionali è una pugnetta incredibile come se gli altri governi non li avessero fatti capito è una è una pugnetta pericolosissima quella è una pugnetta pericolosissima e stupida però sai tutta la retorica contro i francesi che ci rubano che ci rubano le le imprese che vengono a fare shopping in Italia la finanza che specula eccetera tutto tutto quel tipo di discorso tipo di retorica non è particolarmente salubre quindi lì io avrei qualche dubbio insomma lì avrei delle preoccupazioni non banali e boh per il resto non lo so Alberto che che possiamo dire insomma che dobbiamo quali sono le cose a cui dovremmo fare più attenzione secondo te hai saltato la linea no hai solo cambiato il l'organizzatore ma non è successo niente di che quali sono le cose secondo te dove si vedrà qual è l'indirizzo del governo ma sulla l'Italia sulla team e la legge sugli appalti per esempio ma mi aspetto una legge però su queste cose io tra destra e sinistra non ci vedo grandi differenze ma questo è un male è un male perché insomma in un sistema di alternanza quando arriva la destra al potere fa cose di destra quando arriva la sinistra fa cose di sinistra cioè in un mondo ideale se poi quando c'è l'alternanza fanno tutte e due le stesse porcate e voglio dire non c'è da rallegrarsi no per me non ho grandi sia per me collocazione internazionale del paese politica di bilancio economia qualche legge sociale per il resto non mi interessa molto la differenza da destra e sinistra perché non penso che sia così diversa capito però il problema il nodo centrale l'italia è la produttività cioè la crescita e questa produttività è frenata da burocrazia fisco giustizia insomma i mali che abbiamo elencato migliaia di volte cioè quindi sono problemi lasciati incancrenire che datano da alcuni decenni e devono essere affrontati questo è il problema secondo me il vero pericolo è che il governo appunto faccia più o meno le stesse cose del governo dei governi precedenti cioè niente ma aspetto di più da un governo con leghe forza italia ma aspetto che sia più liberista un governo con leghe forza italia che un governo con i 5 stelle capito leghe forza italia vogliono le pensioni quota 41 le pensioni alle casalinghe non lo so se parlano a vanvera e faranno altro però cioè la pensione a cani e porci a mille euro non è che sia poi così diversa dal reddito di cittadinanza a cani e porci a 750 euro massimo questa è un po' la mia paura in soldoni ma la Meloni la vedo accorta capito tutte quelle promesse di Salvini sulle pensioni andranno da nessuna parte beh c'è da augurarselo quindi staremo a vedere io così adesso mi metto in platea col popcorn e sono sicuro che il divertimento non mancherà draghi secondo te che farà o andrà la nato chissà o al posto della Fonderlion anche però quello ci vuole un po' più di tempo più di tempo un'altra previsione che ti chiedo si farà o no la riforma in senso presidenzialista? non c'è i numeri no i numeri ce li ha per passarla in Parlamento non hai numeri per evitare il referendum tu dici ma non c'hai due terzi del tu dici la fa il Parlamento per fare il referendum come fece Renzi perché credo che la gente la farà perché non potrà fare molto molto di altro quindi quella la farà quindi tu sei convinto anch'io penso che cercherà di coinvolgere tutti magari farà una commissione bicamerale l'ennesima però credo che su quello ne vedremo delle belle insomma vedremo una cosa uno scontro interessante ma io non sono il contrario al presidenzialismo o il doppio turno quello che ne verrà fuori e c'è però il cioè le alternative sono eleggere il presidente della Repubblica o il primo ministro a suffraggio universale e con il doppio turno o con un turno unico a me piace molto il doppio turno anche a me ma io non sarei propenso a eleggere il presidente della Repubblica io sarei propenso a eleggere il primo ministro e anzi il presidente della Repubblica dovrebbe essere eletto con una maggioranza qualificata cioè di due terzi del Parlamento invece che della metà ma adesso io su queste cose non mi pronuncio su queste cose incostituzionali non no perché se hai un Parlamento maggioritario hai il presidente del Consiglio eletto dal popolo è chiaro che poi il presidente della Repubblica sarà espressione di una parte del di una parte politica quindi hai il presidente della Repubblica il presidente del Consiglio e maggioranza parlamentare allineate che è un po' un rischio oddio negli anni della prima Repubblica era così nessuno ha menato scandalo però il morello francese piace molto capito la elezione di un presidente doppio turno con un primo ministro esecutivo però poi lì anche hai dei problemi quando il presidente della Repubblica perde le elezioni politiche hai la coabitazione cioè il primo ministro è di un partito diverso da quello del presidente della Repubblica quindi in un paese come l'Italia quello potrebbe provocare problemi mentre è meglio che fai eleggere il primo ministro che governa un presidente della Repubblica che offre garanzie che non ci siano involuzioni autoritarie ma adesso andiamo troppo avanti Fabio non vuoi stare a discutere in questa sede ma il fatto è sì probabilmente la Meroni porterà avanti l'uniforma presidenziale che mi vede favorevole non so giusto se avrà i numeri al referendum perché 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 i numeri non ce li ha neanche al governo c'è al governo per questa legge perché la sinistra si è portata si è portata si è portata si è frammentata però non è che ci abbia i numeri per vincere molti referendum capito avendo conto la sinistra e tutti gli altri però che ti devo dire l'elettorato dei 5 stelle è favorevole o contrario al presidenzialismo faccio per dire elettorato di calenda non lo so Fabio non è detto che se si fa il referendum il perimetro del sì sia limitato a quello del voto per la destra io credo che se mi fai scommettere la gente è più propensa a eleggere direttamente chi comanda tra virgolette piuttosto che rimanere in questo sistema dove i governi sono instabili non si capisce chi è responsabile di cosa si vota per uno e si finisce a governare con con un altro e quindi il referendum non penso che sarebbe uno scoglio insormontabile non c'è la maggioranza a livello nazionale ma i referendum sono una cosa diversa non è sì ma avrebbero un barrage di contro devi vedere ripeto non è detto l'estato PD sicuramente è ostile per dirne una però fai conto ci stanno tutta una serie di cespugli e cespugliotti che paragone che hanno preso pochi voti perché insomma non hanno raggiunto la la soglia minima però quelli nel in un referendum si aggiungono ai voti della destra e ti ripeto secondo me l'elettorato di Calenda e Renzi Renzi l'ha già detto per me è bene eleggere il primo ministro quindi se fai 44 e 8 e 7 già sei oltre il 50% si dovrebbe negoziare con qualche partito d'opposizione si si ma ripeto non avrebbe granché non è uno scoglio insormontabile va bene dai Alberto si si apre una stagione interessante sempre che poi Salvini e Berlusconi la lasciano governare senza troppi scossoni io non credo che Salvini abbia proprio l'umore giusto per lasciare campo libero alla rivale che gli ha soffiato la primazia nel nel centro-destra io penso piuttosto che pure lui è arrivato un po' al capolinea della sua cadera politica dai faranno un congresso lo manderanno a casa a sto punto non ha preso neanche il 9% no ma la cosa peggiore dal punto di vista dei suoi è che tipo in Veneto Fratelli d'Italia ha preso il doppio della Lega Lombardia capito e quindi è andata a intaccare proprio i feudi della Lega per cui Zaia Fedriga e diciamo i RAS locali non la prenderanno tanto bene perché al prossimo giro Fratelli d'Italia farà valere il peso elettorale e dirà boh la vostra stagione è passata adesso il presidente della regione lo vogliamo noi lo candidiamo noi e quindi quella è la paura per cui nella Lega per il momento abbozzano per il momento non potranno tirare calci negli stinchi ma passato l'entusiasmo iniziale venuti in ori al pettine voglio proprio vedere se questa maggioranza resiste va bene Alberto ti abbraccio un saluto a tutti quelli che ci hanno guardato finora con la preghiera di iscriversi al canale lo state facendo in tanti negli ultimi giorni se continuate così ci fate un enorme piacere mettete dei like e commentate ciao a tutti ciao 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 ciao